Ragazzi, mentre ero sul Play Store ho trovato questo gioco barra per bambini, barra siren head, barra terrore che non capisco come fa essere per bambini, c'è terrore che ragazzi stanno tutto bene, tipo un Super Mario ma con siren, con siren brosso no, mannaggia, sono morto guarda che mi tocca avessi tutto da capo eh ma la madonna ma che schifo è sto gioco però maldezione cartoniche prego vattene anche se non arriviamo a destinazione il viaggio è stato divertente ora ci siamo, questo è il punto mio, ce l'abbiamo fatta eh ma dai che ma di me che sono certi giorni per i bambini a volte mi stufano mannaggia eh ma proprio ho capito ma proprio questo gioco e proprio deve essere la precisione ragazzi un portero la serie di sto gioco è un pochino vero l'ex perchè c'è Mario e non ce l'hai di siren head sulle mone su un coso su un coso dai prendimi ora posso sputare fuoco evviva ragazzi c'è più c'è più c'è più c'è più eh ma dai m'ho scopato ragazzi mi scassa sto gioco cioè proprio mi scassa non puoi entrare dentro di lui insomma noi non abbiamo un uomo l'assi rimpigione te lo sei meritato questo è il tre giochi a casa sarò vabbè dai stop ragazzi ho trovato altri studiaggi però in un prossimo video ciao raga vi consiglio di installarvi Mobigen è sempre una po' bella ciao raga